C'è un po' l'idea in giro, no? Che fare un scoring vuol dire fare una scelta di libertà. C'è addirittura un cortometraggio, no? Che portava il titolo per raccontare queste esperienze alternative figli della libertà. Questa cosa qua ha soprattutto e prima di tutto un rapporto forte con la responsabilità. È una scelta di responsabilità e poi da qui diventa scelta di libertà.